A 99 secondi tv con Gabriele Mirra, tu sei il responsabile marketing di Libero, avete appena presentato il nuovo portale, che numeri ci puoi dare? Che tra l'altro sono quelli che vediamo sullo sfondo? Sì, numeri da leader, sono direttore marketing di Libero SRL, che comprende le attività del portale libero.it da un lato e dall'altro lato dell'internet service provider ITNET, sono numeri da leader, quelli che vediamo alle nostre spalle sono i dati Audiweb di aprile, parliamo di oltre 13 milioni di utenti unici nel mese, un bacino pubblicitario enorme di circa 4,5 miliardi di impression generate grazie al fatto che facciamo circa 2 miliardi e mezzo di pagine liste. Senti, niente male, e quindi in breve, visto che abbiamo un minuto e mezzo, cosa pensi di fare per il 2012? Tantissimo, è sempre meglio, questo è soltanto il punto di partenza, è il primo assaggio, in realtà noi quello che vogliamo fare è costruire in Italia sul mercato del display advertising il player dominante che in questo momento manca. Senti, è un obiettivo ambizioso ma credo che ce la potete fare, anche voi senza timore ovviamente. Io ne sono certo. Bene, grazie e un minuto e trenta ce l'abbiamo fatta anche questa volta e ci rivediamo presto sul 99 secco di TV. Grazie a voi.